ciao ciao allora adesso vi faccio vedere una cosa che magari molti sanno ma alcuni no un piccolo trucchetto per rendere il tovagliolo del ristorante utile anche quando all'apparenza può sembrare solamente fastidioso allora se avete le gambe particolarmente grosse no e quindi provate a mettervi il tovagliolo no sulle gambe ma di fatto essendo troppo stretto rispetto alle gambe questo qua si sciupa si stropiccia non riesce a stare sulle vostre gambe nella maniera corretta allora anziché metterlo per il verso comune girandolo in questa maniera avrete automaticamente diciamo semplificato il problema perché in questa maniera il tovagliolo risulta più largo e quindi riuscirà a occupare o meglio riuscirà a coprire al meglio le gambe nel caso in cui appunto voi doveste magari un po' più grosse rispetto alla norma spero che questo piccolo trucchetto possa tornare